ciao a tutti ragazzi e bentornati sul viaggio bello con francesco in questo primo video del canale ufficiale sui viaggi andremo a parlare di viaggi all'estero 2021 liste paesi vietati e consentiti per turismo e le regole covid da seguire in quel determinato paese partiamo subito dal sito in cui sono in questo momento in questo momento sono su leggi oggi punto it che è un sito che ti dà le leggi che ci sono in questo momento le leggi italiane che ci sono in questo momento su tutti gli argomenti quindi in questo caso sono sui viaggi però ci sono anche su altri argomenti che vi potrebbero interessare iniziamo subito allora i turisti si devono informare sulla normativa italiana applicata sulle destinazioni estere suddivise in 5 in 5 elenchi a b c d e questi elenchi sono suddivisi a seconda delle misure più o meno restrittive dal 16 maggio fino al 30 luglio 2021 gli spostamenti da e per l'estero sono disciplinati sono disciplinati dal dpcm del 2 marzo e dall'ultima ordinanza del ministro della salute del 14 maggio partiamo subito viaggio all'estero 2021 regole dell'elenco a i paesi inseriti nell'elenco a sono al momento san marino e città del vaticano questi due stati costituiscono un elenco a parte in cui al momento non sono previste limitazioni per gli spostamenti da san marino e dal città del vaticano per l'italia oppure per dall'italia per città del vaticano san marino perché sono talmente piccoli che il covide non viene quasi per niente riconosciuto regole dell'elenco b nell'elenco b ora non c'è nessuno stato è vuoto saranno eventualmente inseriti tutti gli stati e territori considerati a basso rischio epidemiologico in questo caso o non c'è la pandemia oppure la pandemia c'è c'è abbastanza quindi in questo caso nell'elenco b non c'è non c'è niente con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del dpcm del 2 marzo come si legge nel testo i paesi inseriti possono essere modificati con ordinanza del ministro della salute di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in questo caso sono consentiti gli spostamenti da per i paesi che si trovano nell'elenco b senza obbligo di motivazione si consiglia tuttavia di verificare sempre la normativa prevista per l'ingresso in ciascun paese in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle autorità locali cioè praticamente l'italia potrebbe non imporre regole per facciamo un esempio adesso la cina torna ad essere a basso a basso epidemio abbassa l'epidemia ci sarebbe ma bassa cioè non ce ne sarebbe tanta l'italia non prevede non prevede regole perfisse per tornare dalla cina per andare in cina ma la cina decide che chi viene dall'italia deve fare il tampone e quindi appunto bisogna andare a leggere appunto sul sito del turismo della cina appunto cosa dobbiamo fare noi dall'italia oppure se siamo in inghilterra dall'inghilterra da tutti gli altri stati del mondo nell'elenco c regole elenco c in base alla normativa italiana gli spostamenti da per i paesi dell'elenco c sono consentiti senza necessità di motivazione secondo l'ordinanza 14 maggio 2021 del ministro della salute per poter entrare in italia in caso di soggiorno o transito dai paesi dell'elenco c nei 14 giorni precedenti sono richiesti un formulario online di localizzazione chiamato anche passenger locator form digitali dplf oppure una certificazione verde covid 19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021 numero 52 da cui risulti di essere sottoposti nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico quindi bisogna fare un tampone da effettuarsi per mezzo di tampone è risultato negativo i paesi compresi nell'elenco c sono austria belgio bulgaria cipro croazia danimarca incluse le isole quindi le isole faroe e la groenlandia estonia finlandia francia e inclusi tutti i territori guadalupa martinica gaiana riunione maiotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo germania grecia irlanda lettonia lituania lussemburgo malta paesi bassi sempre scusi territori situati al di fuori del continente europeo polonia portogallo incluse le azzorre e madeira repubblica cieca romania slovacchia slovenia spagna inclusi territori del continente africano svezia ungheria islanda norvegia link testa in regno di gran regno unito gran bretagna irlanda del nord non la scozia svizzera andorra principato di monaco e israele invece il principato di monaco ragazzi a differenza di città di san marino e della repubblica di san marino città del vaticano scusate risulta con del covid abbastanza elevato regole dell'elenco d anche in questo caso sono consentiti gli spostamenti da per i paesi dell'elenco d senza necessità di motivazione i paesi sono australia canada giappone nuova zelanta e corea ruanda singapore stati uniti thailandia dal 16 al 30 luglio 2021 in base all'ordinanza 14 maggio scorso all'ingresso barri entro in italia se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato barra transita in un paese dell'elenco d è obbligatorio compilare un formulare online di localizzazione disporre di un certificato che atteste risultato negativo di un test molecolare o antigenico fatto col tampone effettuato nelle 72 ore precedenti dall'ingresso in italia informare l'azienda sanitaria competente per il territorio del proprio ingresso in italia sottoporsi comunque isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria dal 18 aprile 2021 il periodo di sorveglianza di 10 giorni si può raggiuntere la propria destinazione finale in italia solo col mezzo privato quindi solo con l'automacchina l'automoto non possiamo andare in pullman ecco è però consentito il transito aeroportuale senza uscire dalle zone dedicate all'aerostazione al termine di 10 giorni di quarantena è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico condotto con tampone regole dell'elenco e nell'elenco e sono compresi tutti i paesi e territori non inseriti negli elenchi sopra citati ma si ricorda che prevista una disciplina specifica per gli spostamenti da per sri lanka bangladesh brasile e india indicata nei paragrafi successivi in questo caso la normativa italiana prevede che gli spostamenti da per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni quali lavoro motivi di salute difficilmente io dall'italia vado in quella non in bangladesh però comunque motivi di salute ci sono studio assoluta urgenza quindi assoluta urgenza tipo muore un parente da allora posso andare rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza non sono quindi consentiti spostamenti per turismo quindi se io adesso parto vado in bangladesh non posso anche per questo elenco la normativa italiana impone a rientrare a questi paesi di compilare sempre il solito formulare online di localizzazione sempre di disporre un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico sempre nelle 72 ore precedenti informare l'agenda sanitaria competente per il territorio del proprio ingresso in italia sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni appunto sempre qua con l'aerostazione che è consentito il transito aeroportuale senza uscire dalle zone dedicate all'aerostazione quindi qua bisogna spostarci a parte quei due casi con un mezzo proprio e al termine dei 10 giorni di quarantena è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico condotto con tampone il rientro ingresso in italia dopo la pre permanenza in uno di questi paesi è sempre consentito per i seguenti casi ai cittadini italiani ai cittadini dell'unione europea e ai cittadini dell'area schengen e ai loro familiari ovviamente nonché ai titolari dello stato sono i soggiornanti di un lungo periodo dei loro familiari alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile anche se non conviventi con cittadini italiani e unioni europei dell'area schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in italia soggiornanti di un lungo periodo quindi se abita da ieri non posso si abita da un anno magari sì da un anno forse ancora troppo poco facciamo dieci anni va che debbano raggiungere l'abitazione domicilio residenza del partner in italia viaggi all'estero 2021 india bangladesh e sri lanka nonostante siano inseriti nell'elenco e risulta vietato l'ingresso in italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in india bangladesh e sri lanka tale divieto non ha validità per le seguenti categorie di persone fino al 21 giugno 2021 a condizione che i vegetali non presentino sintomi compatibili con il coronavirus a coloro che siano cittadini italiani e che abbiano anche la residenza anagrafica in italia data anteriore all'ordinanza del 29 aprile 2021 a cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero aire come da ordinanza del 6 maggio 2021 per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili dopo aver ottenuto un'autorizzazione espressa dal ministero della salute italiana indipendentemente dalla nazionalità come da ordinanza del 6 maggio 2021 l'ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto della seguente procedura obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso è risultato ovviamente senza... non bisognerebbe neanche dirlo ma deve essere ovviamente negativo bisogna sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all'arrivo in aeroporto bisogna sottoporsi a prescindere dall'esito negativo del test all'isolamento presso un covid hotel o un altro luogo indicato dall'autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di 10 giorni è obbligatorio sottoporso ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena ed è anche obbligatorio compilare il passenger locator from form digitale viaggio all'estero del 2021 in Brasile allora lo stesso divieto vale anche per coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato barra transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia fino al 30 luglio 2021 ci sono tuttavia alcune eccezioni su cui non si applica il divieto di ingresso in Italia dopo la permanenza in Brasile a condizione che i vegetatori non presentino ovviamente sintomi del coronavirus a coloro che abbiano una residenza anagrafica in Italia data anteriore all'ordinanza del 13 febbraio 2021 a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal ministero della salute italiano per inderogabili motivi di necessità indipendentemente della residenza anagrafica a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori del coniug o della parte di unione civile anche in questo caso l'ingresso delle categorie di cui sopra vi avviene esclusivamente nel rispetto della seguente procedura obbligo di presentazione della certificazione di stessi sottoposti al tampone 72 ore precedenti con il risultato negativo bisogna sottoporsi a un test molecolare all'arrivo in aeroporto anche qua anche se è il tampone negativo bisogna andare in un covid hotel in un luogo indicato dall'autorità per 10 giorni e poi bisogna fare sempre il tampone dopo dopo verso i giornati in questi covid hotel abbiamo parlato di questo formulario di localizzazione ma chi non lo sapesse ecco qua che cos'è il Passenger Locator Form è un modulo per la localizzazione del passeggero chiamato anche Passenger Locator Card che contiene tutte quelle informazioni utili all'autorità sanitaria nazionale per poter contrattare tempestivamente il viaggiatore in caso di esposizione a malattia infettiva durante il viaggio i dati in esso contenuti riguarderanno principalmente l'itinerario di viaggio, il posto a sedere sull'aereo, il recapito telefonico l'indirizzo di permanenza in territorio nazionale il PLF è necessario per chiunque rientri da un paese estero in Italia e per compilarlo basterà collegarsi su questo portale scegliere l'Italia come paese di destinazione e registrarsi al tramite la procedura verrà rilasciato un QR code da mostrare allo momento dell'imbarco bene ragazzi abbiamo finito di fare questo discorso sul viaggio all'estero spero sia tutto chiaro se qualcosa non è chiaro lasciatemi un commento io cercherò il più possibile di aiutarvi comunque vi lascerò questo sito c'è su tutti i miei social l'ho pubblicato sia su Facebook sia su Instagram sia su Twitter sia su Telegram vi lascerò anche qua sotto in descrizione quindi avete tutte le possibilità di rileggervi questo sito bene normale se ancora qualcosa non è chiaro chiedetemi nei commenti se posso vi aiuterò se volete se voi siete al resto dovete compilare questo modulo il link di questo portale come vi ho già detto qua appunto qua c'è scritto il link questo portale cliccate da una pagina cliccate su computer o su tablet o su telefono su questo portale visto che cerchete in azzurro e vi manderà questo link e poi c'è tutta la spiegazione qua sotto comunque ragazzi vi devo ancora dire una cosa veloce allora la stagione del turismo è iniziata ma come capire in quali paesi si può viaggiare e quali sono le misure restrittive in vigore per rispondere a tutti i dubbi l'unità di crisi della Farnesina ha reso disponibile a tutti i viaggiatori il sito di Viaggiare Sicuri Viaggiare Sicuri è sempre in blu quindi cliccate sopra e arriverete a questa pagina allo scopo di fornire rapide informazioni di carattere generale in metodo alla normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da per l'estero a seconda del paese di destinazione e delle motivazioni di spostamento e qua ti farà fare un questionario che è sempre disponibile su questo portale si ricorda agli utenti che il questionario non ha alcun valore legale e non garantisce l'ingresso negli stati di destinazione che come indica il sito stesso è rimessa la valutazione degli ufficiali preposti ai controlli di frontiera e qua abbiamo come compilarlo allora bisogna scegliere prima il percorso cosa devi fare andare all'estero entrare in Italia entrare in Italia dall'estero qua ti fa vedere delle cose dove vuoi recarti per quale motivo ti recchi all'estero vedete per lavoro, per studio, per tutto e alla fine arriverà il risultato del questionario il questionario tutta l'informazione per fare il questionario sono su questo sito qua quindi il link è sempre in descrizione quindi se volete leggere qua come si fa lo leggete se volete anche compilarlo potete compilarlo bene ragazzi ora ho ufficialmente finito fatemi sapere la vostra il video è venuto lungo è venuto quasi 20 minuti però volevo essere chiaro su questa cosa vi ricordo ancora commentate se qualcosa non è chiaro commentate condividete questo video se qualcuno vuole andare all'estero lasciate un like iscrivetevi attivate la campanellina seguitemi su Facebook Instagram Telegram Twitter e il sito web anzi il blog tutti i link qui sotto in descrizione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti